Ragazzi voglio fare uno scherzo al prossimo cliente, gli farò credere che ho la tremarella mentre gli passo la lametta sulla barba, vediamo cosa succede Ok Facciamo subito subito Ma sicuro? Sicuro proprio? Si si stai sereno, non la mantengo con l'altra mano, è solo un po' di... Ma guarda Stai sereno, la sto mantenendo